Buonasera e benvenuti a Latina Press Flash. Passiamo alle notizie del giorno. Piccole scosse di terremoto sono state registrate questa mattina dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona di Aprilia, Lanuvio e Genzano, con magnitudo 1.7 della scala Richter. L'epicentro si trovava a 10,9 km dal suolo. Per fortuna non sono stati registrati danni. Epifania, tante iniziative in provincia di Latina. Grande successo per la moto Befana questa mattina in Piazza della Libertà. A Cisterra invece la viecchietta è arrivata lanciandosi dal tetto di un palazzo e atterrando proprio in mezzo alla folla. Grazie all'iniziativa, curata dall'Associazione dei Vigili del Fuoco in Congedo. Nascondeva mille grattevinci rubati, denunciata una donna ad Aprilia. Proseguono le indagini della squadra mobile dopo il sequestro di un carico di grattevinci in un'abitazione di Aprilia e la denuncia per ricettazione di una donna di 52 anni originaria della provincia di Trapani ma ormai residente da anni ad Aprilia. Gli investigatori, entrati in azione dopo una segnalazione anonima, hanno trovato nel suo appartamento in Via dei Lauri 970 biglietti della lotteria istantanea e 45 tagliandi della lotteria Italia. Gli agenti stanno svolgendo in queste ore alcuni accertamenti per capire quali possano essere i canali a cui erano destinati e le modalità per metterli in circolazione. Essorsione alla madre. In manette un uomo di 39 anni a Formia. È andata a trovare la madre nella sua abitazione per cercare di estorcerle 600 euro. La donna è riuscita ad allertare i carabinieri che hanno immediatamente arrestato il figlio. Latina. Al Goretti il primo espianto multiorgano del 2015. Grazie all'importante gesto di solidarietà dei familiari del paziente deceduto, è stato possibile effettuare il prelievo di fegato, reni e corne, svolto dai sanitari coordinati dal dirigente del reparto rianimazione Carmine Cosentino e i colleghi arrivati direttamente dal San Camillo di Roma. Vigili assenti a Roma. Primi provvedimenti. È entrata nel vivo dell'inchiesta amministrativa sulle assenze dei vigili nella notte del 31 dicembre. Sono partite infatti ieri sera dalla Polizia Locale 30 lettere indirizzate alla Commissione di Disciplina di Roma Capitale. Sarà la Commissione a proseguire nell'azione a carico dei dipendenti già informati dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Si tratta dei casi che a primi accertamenti sono apparti più chiari e più gravi. Passiamo adesso agli aggiornamenti meteo. Domani giornata parzialmente nuvolosa, non sono previsti rovesci, massima 15 gradi, minima 6 gradi. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione. Per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti visitate il sito latinapress.it. Vi ringraziamo per l'attenzione.